C'è un grande evento a scuola! Audizioni per cheerleader! Riesci a crederci? Ragazze, spostatevi! Dai, non urlate! Questo posto è mio! La ricca Amanda ottiene sempre quello che vuole! Cos'è questo rumore? La ricchissima Courtney è arrivata a scuola! È sempre uno spettacolo quando si presenta! Auguratemi buona fortuna! E qualcuno è davvero, davvero sfortunato oggi! Ma Amanda sa il fatto suo! È impossibile che fallisca! E le prove non sono state vane! Questa pioggia di denaro è impressionante! I giudici sono entusiasti! Amanda entra a far parte della squadra! Ma qui si sente il profumo dell'ultra ricchezza! Courtney si esibisce! Ma il ballon non è il suo forte! Non riesce nemmeno a entrare in squadra! Ma la giuria può essere sempre persuasa! È sufficiente, signore e signori? Oh sì! Abbiamo un accordo! C'è sempre bisogno di persone così in squadra! Ma c'è un'altra concorrente qui! Che grazia! Che talento! Diventerà una star! Sei in squadra! Amelia sarà anche povera, ma... La sua carriera sta per decollare! Era un'inserviante! E ora è una cheerleader! I giochi sono finiti, ragazze! Attenzione! Inizia l'allenamento! Iniziamo con la più facile! La spaccata! Guardate e imparate! Attento, coach! Abbiamo capito! Ora devo andare in infermeria! Sì, signore! Le ragazze mostreranno cosa sanno fare! Sono delle professioniste! Ma Amanda non se la cava bene! Cosa faccio? Giusto! La ricchezza risolverà tutti i problemi! La gamba d'oro non ha mai fallito! Ma Amelia ha imparato a fare la spaccata! È facile se ti eserciti ogni giorno! What? Una gamba finta! Così è troppo! Courtney ha un piano migliore! Lasciamo la spaccata a uno specialista! Salve! È il circo? Mi serve una ginnasta! Subito! Il servizio super mega ricco funziona alla grande! Valutiamo i risultati! Benissimo, Amelia! Amanda, anche tu sei brava! Courtney, sei proprio tu? Brave! L'allenamento per oggi è finito! Andate a casa! Courtney, lo spogliatoio è di là! Oggi è strana! Ma! Amanda, alzati! È ora di andare a casa! Ma Amanda vuole ancora fare un po' di esercizio! Che studentessa responsabile! Lasciamo che si eserciti! La mensa della scuola ha un ottimo cibo! Soprattutto se hai dei soldi! Il suo pranzo, signorina Amanda! Le verdure sono gustose e salutari! Ma l'ultra ricca Courtney ha esigenze particolari! E il cibo sano non può essere economico! Oggi c'è un'insalata super sana nel menù! Evviva la bellezza! Deliziosa! E che nutrimento! Ma la povera Amelia non ha molti soldi! Voglio qualcosa di gustoso! Ok? Come desideri, cara! Ecco a te! L'hamburger è il pranzo di un campione! Sembra delizioso! E il sapore è anche meglio! È cibo povero! Oh sì! È terribile! Niente hamburger, ragazza! Prendi esempio da loro! È buono! Non te ne pentirei! Come vuole, coach! Da oggi in poi! Erba al posto del pranzo! Ha tolto la foglia di lattuga dall'hamburger! È così povero! Abbiamo un altro allenamento! Nessuno si muova! Oggi impariamo una mossa super complicata! Guardatemi! Non potrebbe essere più facile! Piedi in alto e tutto il resto! Oh, santo cielo! Dove metto le mani? Anche Cartoon non riesce a fare nulla! Ma c'è una studentessa eccellente nella squadra! Amelia è di nuovo in vantaggio! È così fastidiosa! Basta parlare! Il prossimo compito è la piramide! Tenetemi, ragazze! Non pensarci nemmeno! Dovremo lavorare da sole! Courtney ha già pensato a qualcosa! È la piramide degli ultraricchi! Ah, così non va! E Amanda? È chiaro! Ancora soldi! No, Amanda! Bene! Ed ecco la piramide di Amelia! È un bel approccio! Ben fatto, Amelia! Ecco la tua medaglia per lo sforzo! Non può essere! Amelia è di nuovo la prima! E la vendetta sarà dolce! Stai qui, amica! Non devi andare da nessuna parte! Ma dove vanno tutti? C'è un annuncio importante a scuola! Inizia il concorso per la migliore squadra di cheerleader! Sarà interessante! Fuori dai piedi! La ricchezza è impotente qui! Ma Amelia ha una possibilità! Gli odori sgradevoli sono più efficaci del denaro! Il prezzo di qualcuno deve essere andato a male nell'armadietto! Squadra? Avete visto? Dobbiamo vincere il concorso! Al lavoro! L'agitazione prima della gara deve essere scacciata con il cibo! I dolcetti calmano i nervi! Ma non puoi nasconderti dall'allenatore! Chi sta mangiando dolci? Voi? Oh santo cielo! Dobbiamo coprire le nostre tracce! Incastriamo Amelia! Facciamo finta che siano suoi! Amelia se lo merita! Poverina! Che brutta manicure! Amanda la sistemerà! L'oro è sempre di tendenza! Non è abbastanza, Amanda! Un paio di gemme sistemeranno la situazione! Ce l'abbiamo fatta, ragazza! Fatti il 5! L'allenatore è avvicino! Dobbiamo nasconderci! C'è odore di dolci e tradimento qui! Dove li avete nascosti? Attenta a te, Courtney! E attenta a te, Amanda! Se trovo i dolci sarete nei guai! Non resta che Amelia! Ecco dove si nasconde il male! Amelia, alzati! Sei nei guai! Beh, quello non è mio, coach! Fare scherzi ai poveri è sempre divertente! Sei in punizione, Amelia! Cento squat! Che ridere! Alla fine Amelia ha perso! Ma oggi tutte saranno punite! Cento squat a testa! L'allenatore non sembra essere dell'umore giusto oggi! Allenamento anticipato! Cosa c'è di meglio? Tutta l'attrezzatura è libera! E non c'è nessuno! Un allenamento leggero è così tonificante! Il record sportivo è dietro l'angolo! L'allenatore lo apprezzerà! Ben fatto, Amelia! Ma i ricchi non sono abituati ad alzarsi presto? L'allenamento può aspettare! Che impertinenti! Siete in ritardo, ragazze! Soldi per dormire, ok? Tanti, tanti soldi! Va bene, va bene così! Amelia, vieni qui! D'ora in poi, sei il capitano della squadra! Congratulazioni! Evviva! I sogni si avverano! Chi dorme a lungo al mattino perde sempre! Grazie, coach! E voi, ragazze? Continuate ad allenarvi, ora! E questo è Tyler! È il capitano della squadra di calcio! Ed è perfetto! Come fa ad essere così bello? Ciao, Tyler! No, l'ho detto prima io! È il momento di chiedere a Tyler di uscire! Vuoi un po' di soldi? No, vado di fretta! La prossima volta! Ecco di che si tratta! Tyler ha un amore segreto! E hanno un appuntamento stasera! Seguiamolo! I due innamorati sono insieme! Questa è per te, Amelia! Sei bellissima! Tyler è un vero romantico! Staranno insieme per sempre! Ma prima un piccolo bacio! Oh no! Ecco i paparazzi! Se ne pentiranno! Ora tutta la scuola saprà di questa dolce coppia! Corri, Amanda! Guarda! Eccoli innamorati! Tyler! Siamo noi! Guarda! Siamo dappertutto! Speriamo che il coach non le veda! Oh! Che succederà ora? Ecco l'allenatore! Come avete potuto? Niente romanticismo, ok? Tyler! Sei il retrocesso a mascotte! E tu, Amelia! Fuori dalla squadra! Non esiste! Che crudeltà! E le rivali sono felici! Ma è meglio non far arrabbiare l'allenatore! Courtney e Amanda sono determinate a vincere! Ma il loro allenamento non funziona! È un completo fallimento! Courtney, stai sbagliando tutto! Guardati tu, Amanda! Dobbiamo salvare questa squadra! Il tempismo di Tyler è perfetto! Ma Scott, sali sul palco! Lo spettacolo continua! Per fortuna Tyler sa ballare! Ci serve Amelia, ragazza! Seguimi! Amelia, stiamo perdendo! E abbiamo bisogno di te! Ecco, questi popponi sono tuoi adesso! Non puoi lasciare la squadra allo sbando! Vai via, mascot! Ci sono le professioniste! E possiamo anche fare la piramide! Ecco il lavoro di squadra! E abbiamo dei vincitori! E' una ricompensa meritata! Evviva! Il primo posto è nostro!